Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo la partita integrale tra me, mi vedete in blu, e Salvemini-Antonio-Alessandro in verde. Questa è la partita che ho giocato nella prima giornata di ritorno di campionato, l'ottava, ad Areano Irpino, quindi in casa per quanto mi riguarda. E insomma, appunto, è stata una partita abbastanza importante per me, perché comunque è stata combattuta, tirata, quindi è stata anche una bella partita. E ecco, vediamo già da subito, parlando direttamente dell'incontro, vediamo già da subito che diversi punti sono scambi abbastanza, almeno per l'inizio, sono scambi abbastanza, diciamo, improntati molto sulla terza palla, o addirittura, appunto, sull'errore sul servizio, ecco, spesso, ecco, vedete come in questo caso sul mio flip di rovescio, o in questo caso sulla mia, siamo schiacciata con il dritto sulla palla alzata. Quindi molti punti saranno così in generale, quindi ho errore subito, oppure il terzo punto, terza palla da parte mia. Quando lo scambio si prolunga, io oggettivamente ho un vantaggio rispetto al mio avversario, perché in generale quel giorno ero un po' più rapido, immagino più allenato, non lo posso sapere, però come vedete sullo scambio aperto, qui tra l'altro abbastanza fortunato con una retina sul 19, da parte mia, però, insomma, capita. E, appunto, ecco, come vedete molti punti sono stati fatti, come anche questo rovescio che ho tirato, anche in questo caso però ho sbagliato. Comunque sono tutti servizi fatti quasi sul primo top, ecco, raramente si, il gioco, o addirittura sulla prima palla, diciamo, sulla prima apertura, raramente il gioco, diciamo, si allunga lo scambio, però in quel caso comunque io ho un vantaggio. In ogni caso cerco comunque di chiudere, insomma, di essere abbastanza aggressivo, consapevole del fatto che comunque il mio avversario può, insomma, attaccandomi mette molto in difficoltà, quando attacca. Come avete visto prima, quel top di dritto è stato fulminante, non sono stato in grado di riprendere. Come vedete, molti dei miei servizi sono, diciamo, molto sulla parte del rovescio del mio avversario, dato che in questo caso, come anche questa, tra l'altro, buona risposta, però come vedete, il mio avversario, insomma, ha difficoltà a tenere la palla bassa, insomma, ad avere una risposta aggressiva. Qui, tra l'altro, vedete, non ho aperto una palla lunga, il servizio è lungo e, insomma, ho perso diversi punti. Invece, vedete, fa quasi sempre punto sulla prima palla ogni top di dritto che tira il mio avversario. Quindi, insomma, la chiave della partita era sicuramente essere aggressivo, però evitare di sprecare. Come vedete, negli ultimi 4-5 punti, non so se avete notato, mentre vedete la partita, ho sbagliato tantissime risposte al servizio, proprio immediatamente. Anche gli ultimi 3-4 punti del mio avversario sono stati così, che è una cosa gravissima, perché praticamente, insomma, vado a regalare il punto. Tra virgolette. Comunque, è bravura dell'avversario, ovviamente. Però, questo è invece il primo punto che faccio io sul servizio. Un altro punto diretto sul servizio, come vedete, è un po' difficile. Ecco, ho avuto difficoltà a rispondere ai servizi, particolarmente in questa partita. Ecco, come vedete, adesso ho cercato, diciamo, visto, vedendo che nelle fasi decisive sbagliavo molti, tra l'altro che è un bello scambio lungo che anche in questo caso ho vinto, vedendo che spesso sbagliavo la risposta al servizio, ho deciso, insomma, di evitare di fare sempre il flip, diciamo, di attaccare la prima palla e questo mi ha portato comunque un vantaggio anche nel terzo set, che è questo che state vedendo. Cioè, non attaccare la prima palla immediatamente, ma palleggiarla, nel caso corta, ovviamente, e poi successivamente andare ad attaccare, diciamo, con forza un po' su tutto il campo. Maggiormente, quando la palla è un po' alta, vado con... sono andato spesso di rovescio lungo linea, però diverse volte, insomma, ho abbastanza variato la posizione dei top. Ecco, come vedete, questo, tra l'altro, qui ho volutamente... perché si sono riuscito a, diciamo, a continuare l'attacco? Perché ho volutamente... ho volutamente cambiato la direzione del top, diciamo, su una palla un po' più alta di rovescio, che ho sempre tirato sul dritto, stavolta l'ho tirato proprio sulla racchetta sul rovescio, il punto precedente, e... però comunque ho seguito l'azione e quindi sono riuscito a continuare. Qui un po' di errori, diciamo, su palle un po' più semplici, che prima ero riuscito, nei set precedenti, a... insomma, a fare bene, come... come per esempio questo top di dritto un po' lento, un po' efficace, uno scambio di rovescio fuori, qui un bel bloc spinto, più, più, diciamo, bello scambio, insomma, spinto in avanti su una palla con l'effetto, che è una... che, diciamo, è stata anche questa, la chiave del... del grande vantaggio che ho avuto con il mio avversario. Cioè, qui tra l'altro due retine sul 10-8 e andiamo 2-1. E dicevo, un grande vantaggio che ho avuto è stato... diciamo, un grande punto a mio favore, è stato questo scambio di rovescio molto forte, come quello che ho fatto su questa palla, il primo. E... ecco, in risposta più o meno, insomma, non... e vedete, anche qui un bello... da lontano riesco a... senza fare il top, stavolta, a, diciamo, spingere la palla molto... molto tesa, molto forte, e mettere in difficoltà il mio avversario. Qui, tra l'altro, vedete, insomma, delle volte ho tentato un po' più il top di rovescio da... da lontano per... per varie ragioni. Qui ottimo, vedete, non tentare il flip sulla prima palla, addirittura due palleggi che hanno... fatto fare un... ecco, vedete, un altro top di rovescio... non... diciamo, da lontano, un po' sbagliato. Qui con le gambe non stavo per niente messo bene. Diciamo che, in generale, non è... qui addirittura contro top, però da un po' troppo dietro, un po' prevedibile... e diciamo che, non... in generale, la partita si è basata molto sul mio servizio sul rovescio, che era un po' complicato. Diversi errori da parte del mio avversario, indubbiamente, io ho sbagliato di meno, ho sbagliato un po' di più il set precedente, un po' di fortuna da ambe e due le parti, però, in generale, insomma, una partita combattuta. Vedete, qui ho rallentato un po' anche il top di dritto, in particolare, perché mi aveva un po' spiazzato. Qui un altro errore, insomma, su una palla abbastanza semplice. E nulla, arriviamo 9-4. Come vedete, quando decido di battere più sul dritto, vado un po' in difficoltà. Ecco, non copro bene... qui un servizio proprio... che non esiste proprio. E così, 9 pari, ecco, una buona... mi sono anche affidato un po' al blocco, devo dire la verità, a un certo punto, proprio perché avevo difficoltà nell'apertura dei servizi, quindi non sempre riuscivo a mantenere la palla corta. Vedete, qui anche l'ho allungata, avrei potuto tirarla. Andiamo ai vantaggi. Qui, come vedete, un altro servizio che mi fa alzare la palla e quindi di conseguenza avere un grande vantaggio. E qui vinco la partita 3-1. Sicuramente c'è da migliorare, sicuramente gli spostamenti e l'apertura dei servizi, però sono contento. Io vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like. Ragazzi, seguite Matteo Liannone! Grazie!